Matrimonio a prima vista Italia in onda su Real Time, quando vedere le puntate e quali sono le coppie. Matrimonio a prima vista Italia in onda su Real Time, ecco quando vedere le puntate e quali sono le coppie. Real Time trasmette in chiaro la decima edizione dell'Il Format, scopriamo le novità e i dettagli delle nuove puntate del programma. Matrimonio a prima vista 2023 è la settima edizione del programma trasmessa da Discovery+, e poco dopo in chiaro su Real Time. Ma la decima in assoluto, dato che le prime tre stagioni sono andate in onda su Sky, e poi in chiaro su TV8. Ma il programma in totale è arrivato già alla decima edizione, visto che le prime tre stagioni sono state trasmesse da Sky e TV8. Basato sul format danese Married at First Sight, è stato acquistato per svariati adattamenti nazionali e presenta anche quest'anno la formula che abbiamo negli anni imparato a conoscere, sei persone che non si sono mai viste o prima vengono abbinate tra loro per formare tre coppie. Particolare non da poco, si vedono per la prima volta proprio il giorno del loro matrimonio. Seguite da alcuni esperti, ognuna delle tre coppie dovrà poi decidere dopo cinque settimane di convivenza se continuare ad essere sposati o divorziare. A differenza delle passate annate, in questa stagione le coppie si sposano tutte insieme. Disponibile in anteprima su Discovery+, per gli abbonati al servizio, matrimonio a prima vista va in onda in chiaro a partire da mercoledì 8 marzo su Real Time. Con i primi due episodi. Dalla settimana successiva vanno in onda i restanti 8 episodi. Una settimana fino al 26 aprile 2023. Mattia, 36 anni, provincia di Torino, giardiniere di professione e appassionato di videogiochi e cucina e Giulia, 27 anni. Provincia di Torino, partita di musei e di viaggi. Irene, 32 anni, nata a Napoli ma residente a Milano. Restaurant manager con lobby della letteratura, e Matteo, 29 anni, Milano. Un consulente bancario. Simona, 30 anni, di Vereggio, che amministra il cantiere navale di famiglia. E Gennaro, 34 anni, di Reggio Emilia, cameriere con la passione per la fotografia. E Gennaro, 34 anni, di Vereggio, che amministra il cantiere navale di famiglia. Punta Valine. E Gennaro, 34 anni, di Vereggio, che ha una scontata di mandato. Reggio Emilia, del grewico ilоне 그� head di dorm